In questo universo, noi gestiamo il tempo in maniera lineare, in avanti. Ma al di fuori del nostro spazio-tempo, da una prospettiva che sarebbe quadridimensionale, il tempo non esisterebbe. E da quella posizione, se potessimo raggiungerla, vedremmo che... il nostro spazio-tempo è come appiattito, come una singola scultura la cui materia è in sovrapposizione ad ogni luogo che abbia mai occupato. La nostra vita si ripropone ciclicamente come... dei kart su una pista. Tutto quello che è al di fuori della nostra dimensione è eternità. L'eternità ci osserva dall'alto. Ora, per noi... è una sfera. Ma per loro... è un cerchio.